Polifemo è alla terza, quarantunesima edizione della Sagra dell'Arrosto, una edizione davvero ricchissima quella di quest'anno, un chilometro di carne a disposizione dei visitatori e ho al mio fianco, iniziamo questa trasmissione, apriamo le danze con una persona che è la terza, Gianni De Biasi che è appunto il presidente dell'associazione Macellai di La Terza, la prima postazione percorrendo il corso e la sua. Gianni, ormai è una tradizione quella di essere qui alla terza da parte nostra, la prima domenica del mese di agosto, illustraci questa edizione. Certo, allora vantiamo della quarantunesima edizione, il percorso oramai abbiamo preso un chilometro di percorso, la collaborazione di 13 associazioni, 50 attività commerciale, penso che abbiamo già dei numeri, oltre i 20.000 presenze, 15 quintali di carne, 7 quintali di pane, penso che la gente sta rimanendo soddisfatta, le attività commerciali stanno dando il massimo, la gente è tutta tranquilla, abbiamo pensato per i bambini, abbiamo pensato per gli adulti e ripetiamo sempre, il motto nostro è la prima domenica di agosto, abbiamo quest'anno la collaborazione dei paesi nei rintorni, Sinusa, Castellaneta, Palaggiano, Santeramo, Mottola, Altamura, veramente abbiamo una collaborazione di tutti, siamo orgogliosi di avere tutti questi ospiti veramente grandi, grazie a tutti e vi aspetto l'anno prossimo, la prima domenica di agosto. Prima di parlare dell'anno prossimo godiamoci questa edizione, devo dire che questo odore di arrosto mi stimola l'appetito, verificheremo la bontà del prodotto ma non c'è bisogno, lo dico scherzando, ovviamente una grande unione anche tra voi operatori del settore. Dieci macellai che ci crediamo da 41 anni ma siamo veramente che non molliamo, sono delle macchine da guerra, macellai viri, non rivenditori di carne o quant'altro, siamo dei viri macellai orgogliosi di esserlo e cercheremo di andare avanti quanto più possibile. Davvero bella questa maglietta, ogni anno la prima domenica di agosto, sagra dell'arrosto di la terza, www.associazionemacellai.it è il punto di richiamo, di riferimento. Oramai questa è la maglietta che sarà per tutti gli anni come la prima domenica di agosto, neanche più il vestito si cambierà, oramai è nostro. Io ormai, sul calendario del prossimo anno cercherò con il tondino la prima domenica di agosto perché qui se Dio mi darà la salute e la forza sarò ancora una volta qui per la 42esima. Io ho già ringraziato le persone che stanno qui con un manifesto che poi magari lo riprendete. Il saluto. Il saluto e il ringraziamento a chi ci sta onorando di questo piacere e con le facce degli operatori, dei macellai di la terza senza gli indumenti da lavoro, spero che avete la possibilità di riprenderla e mandarla in onda. Noi macellaio siamo quel gruppo che fra poco andrete a riprendere. La riprova di quanto sia riuscita questa manifestazione, ma lo sottolineo, non è necessario evidenziarlo, è la fila di gente che aspetta il proprio turno, come le liste d'attesa dell'ASL. No, scherzo, ma fa capire come c'è interesse, c'è partecipazione, c'è il gusto di assaporare i vostri prodotti. Con 5 postazioni, 10 operatori ogni postazione, però penso che per smaltire un altro po' la fila cercheremo di migliorare, daremo ancora un servizio in più. Gigi Traetta, vicepresidente provinciale di Conf Commercio Taranto, una manifestazione, una realtà della storia di la terza, appunto la sagra dell'arrosto. Tanta buona carne, quintali e quintali, chilometri di postazioni, potremmo dire, dove si può degustare la carne, ma anche tante attrazioni. La città è viva, la gente partecipa e il bello è che da tutta la Puglia e anche da fuori si è qui alla terza per vivere queste tradizioni. Infatti è un'iniziativa davvero riuscita ancora di più di tutte le altre edizioni, siamo alla quarantunesima edizione, siamo davvero soddisfatti, entusiasti e soprattutto ci è piaciuto tantissimo questo segnale di aggregazione di tutto il territorio della terza. Molto importante l'impegno dei macellai, dell'associazione macellai della terza con il presidente Gianni De Biasi che davvero si impegna tantissimo, ma soprattutto la grande partecipazione di tutti i commercianti, di tutti gli operatori, di tutti i pubblici esercizi. È sicuramente un grande successo, davvero un'iniziativa regionale, tanto che ci accorgiamo anche le attenzioni che ci sono sul territorio. Rispetto agli anni scorsi qualche novità? Ci sono state tante attrazioni in più, quindi ci sono state la Taranta, ci sono stati tanti gruppi, ma soprattutto un'affluenza impressionante di persone, 20 quintali di carne, torniamo a parlare di quintali perché magari tonnellate sembra un po' ancora eccessivo. Ma si arriverà di questo passo? Diciamo però si arriverà sicuramente, sì. Ed eccoci con il primo cittadino di La Terza, Gianfranco Lopane, una manifestazione, un evento che fa parte della storia della Puglia, non solo di La Terza, una città che splende per questa sua specificità, per queste tradizioni che fanno parte del tessuto storico, sociale, produttivo della realtà laertina. Sì, le tradizioni al centro della programmazione culturale e sociale della nostra cittadina, l'identità messa in primo piano e si dimostra una serata che da 41 edizioni a questa parte continua ad attrarre persone da tutto il territorio, il territorio ionico, da quello materano, ma anche dal barese. Lo dimostrano i numeri, l'affluenza, la consumazione, siamo a quasi 15 quintali di carne prodotta e consumata per questa serata e anche dalla programmazione collaterale che quest'anno è stata ancora più ricca e ha visto la partecipazione non solo dell'Associazione dei Macellai, che è l'organizzatrice della serata, ma anche della Prologo e delle altre associazioni che hanno collaborato per realizzare quest'ottima iniziativa. La Sagra dell'Arrosto quindi come snodo importante di una programmazione fra luglio e agosto che è sempre più ricca. La vera sfida perfettamente riuscita è quella del marketing territorio. e certi eventi ovviamente mettono in luce le ricchezze di un territorio. Beh, assolutamente così. Noi abbiamo pensato e puntato sulla programmazione e anche sull'offerta turistica improntata sulle esperienze. Questa è una di queste che noi possiamo proporre non soltanto la prima domenica di agosto, ma che facciamo con continuità durante tutto l'anno. I nostri turisti, gli avventori che frequentano la terza possono frequentare i laboratori del casaro, i laboratori presso i forni, i laboratori presso le macellerie e quindi vivere un'esperienza importante non soltanto dal punto di vista del vino gastronomico, ma anche poter capire come questi prodotti vengono poi preparati. Il sostegno dell'amministrazione comunale è bello vedere insieme le realtà produttive del territorio, l'associazionismo e l'ente civico, a dimostrazione che si abbattono le distanze tra amministratori ed amministrati. Assolutamente sì, la serata di oggi chiude un percorso che dura un anno, che è fatto di tanti tavoli di concertazione, di condivisione, di programmazione. Da domani si ricomincia a lavorare con le associazioni importanti di questo territorio per la programmazione del periodo invernale per la prossima sagra, quindi un tavolo assolutamente condiviso, paritetico in cui le idee possono fare la differenza per lo sviluppo del territorio. Grazie a tutti Grazie a tutti abbiamo fatto una camminata lungo il corso vedendo le attrazioni e siamo ritornati e abbiamo intanto due rappresentanti di Confcommercio Taranto e abbiamo ritrovato il preziosissimo l'uomo simbolo di La Terza, appunto Gianni De Biasi, presidente dell'Associazione dei Macellai. Allora di La Terza, partiamo da Lelio Fanelli, lui lo conoscete tutti, è il presidente della delegazione tre carrare solito di Confcommercio. Abbiamo visto nella veste di rappresentante e di visitatore. Assolutamente sì, non poteva mancare il nostro apporto ai colleghi e agli amici di La Terza con lo splendido lavoro fatto da Gianni come ogni anno, anche quest'anno la nostra conferenza stampa in Confcommercio ha fatto da richiamo per questa manifestazione che è la 41esima edizione, ricordiamocelo, ogni anno cresce di più, ogni anno abbiamo delle novità e comunque si cerca di fare sempre al meglio con tutto il supporto che noi possiamo dare. Alberto Bosca, vicepresidente di Confcommercio Taranto, con delega al commercio. Indubbiamente le attività commerciali fanno crescere, fanno sobbalzare positivamente il territorio. Senz'altro, quest'anno diceva che c'è stato un impegno di tante altre imprese, attività che hanno voluto comunque contribuire a questa manifestazione che si è svolta, se non ricordo male, su un intero chilometro per cui si è riuscito a sviscerare e ad allungare la manifestazione su tutta la parte centrale del paese che, ripeto, sta dando delle belle soddisfazioni nonostante che praticamente a volte ci sono concomitanze di altri eventi. Però è una bellissima manifestazione e riesce, ripeto, a portare tanta gente in una bella presenza di la terza che a livello di carne è fra le migliori. Abbiamo ritrovato con grande piacere Gianni De Biasi, gli elogi oramai ci sommergono, una manifestazione riuscitissima, c'è la soddisfazione, c'è la partecipazione. Confermo la terza, la capitale della carne, e veramente ce lo siamo, e veramente che siamo orgogliosi di tutto questo, rinnovo l'invito alla prima domenica di agosto. Ciao!